Feste Vigiliane all'insegna di Super Mario Cagol, il comico trentino sarà il giudice del Tribunale di Penitenza e dell'Appaglio della Tonca. La manifestazione costerà mezzo milione di euro, sostenuti a metà da pubblico e privato. I dettagli da Rocco Cerone. 29esima edizione delle Feste Vigiliane a Trento dal 21 al 26 giugno. Tradizionale il copione con cena a Benedettina, la Zetterata e il Palio della Tonca, ma anche il concerto delle Orme il 23 in Piazza Duomo, il 26 il Pontificale in Duomo dell'Arcivescovo Luigi Bressan e la distribuzione del pane e del vino di San Vigilio. E la sera alle 23 i fuochi d'artificio. 500 mila euro il budget, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, come ha sottolineato il patron Guido Malossini. Se ci fosse stato il privato io non avrei potuto assolutamente fare un programma come quest'anno. La novità dell'edizione 2012 sarà Super Mario Kagol, il grande anfitrione del Tribunale di Penitenza e del Palio della Tonca. Cercherò di seguire la mia linea comica che porto avanti da un po' di tempo, quindi sarà diverso, speriamo che funzioni. Nessuna anticipazione? Non posso, non posso, mi licenzia Malossini. Però, quale sarà la cifra distintiva di Super Mario Kagol a queste Vigiliano 2012? Allora, di sicuro non parleremo dall'inizio alla fine solo dei politici che abbiamo in regione, anche perché è qui da un po' di anni, insomma, quindi di nuovo ci sarebbe poco. Quindi parleremo anche di questo, ma di tanto altro. Grazie. Grazie. Grazie.